Una nuova veste grafica e soprattutto un'opzione multilingue. Quale è il messaggio che l'agenzia area nolana intende lanciare col nuovo sito internet? Più che un messaggio si tratta di aprire una vetrina, una vetrina sul nostro territorio, sull'area nolana a disposizione del resto del mondo. Una vetrina che vuole raccontare la nostra natura, la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra economia con le sue eccellenze, le sue potenzialità. Praticamente vogliamo rappresentare, abbiamo anche scelto la lingua inglese, cinese e alba, agli altri in maniera confidenziale che questo è un territorio ricco di risorse. Vogliamo rappresentare a quegli imprenditori interessati, a quegli imprenditori che possono provare della nostra area, che noi riteniamo sia il cuore del Mediterraneo, una piattaforma naturale per lo sviluppo, per la logistica delle merci in tutta Europa e ovviamente l'agenzia di sviluppo sta facendo la sua parte per candidarsi come territorio, come aria, a punto di riferimento dell'intera Europa. Basterà farsi comprendere dal mondo per favorire lo sviluppo dell'area nolana? Certamente non è sufficiente il fatto che facciamo un sito di lingua inglese, cinese e alba. È un modo, come dire, per aprirsi all'accoglienza di eventuali investitori di questi paesi emergenti, con l'inglese che è la lingua internazionale per le eccellenze, con il cinese e con il mondo da esportare. Dobbiamo però tenere presente quello che è il contesto macroeconomico, con la crescita demografica, l'urbanizzazione crescente, un'attenzione alla sostenibilità ambientale, che sono, come dire, tre tra i filoni che sono i drivers di lungo periodo. Ma all'interno di questi drivers dobbiamo anche sapere gli investitori verso che cosa si orientano. Si orientano verso il settore energetico, verso l'acqua, verso le redi, verso le telecomunicazioni, verso la forestazione. Nel caso nostro l'orientamento potrebbe essere anche verso l'agroalimentare e verso la valorizzazione dei beni culturali. Non dimentichiamolo, questa è la terra di Giordano Bruno, qui nasce il pensiero dell'era moderna, dal pensiero nasce la responsabilità, dalla responsabilità derivi il dovere. Se tutti e ciascuno di noi facciamo il nostro dovere, lo sviluppo anche nell'area tonale è una cosa possibile.